Musica E salve a tutti e ben ritrovati Questo è un nuovo appuntamento con GameZane E sono qui al secondo appuntamento con InSegreto Dopo tipo 18 mesi Ma ragazzi io direi di iniziare subito 3, 2, 1 Musica Musica Allora Praticamente vi ho chiesto su Facebook Di scrivermi le parole chiavi Da ricercare E adesso le andremo a cercare Come al solito vi invito qui sotto A lasciare i commenti con le parole Da ricercare nel prossimo video E arriviamo a 100 mi piace per il prossimo episodio Ma cerchiamo la prima parola Allora io Voi non lo vedete Ma sto scrivendo Supposta Me l'ha suggerito Davide Vediamo cosa troviamo con supposta Allora Uomo di 23 anni Un giorno in spiaggia Mi mise a cercare tutti i sassi Che avessero la forma di una supposta E già qui è una cosa molto strana E li conservai in una scatola Tre giorni dopo Il mio amico si sentì poco bene Ed io con tutta la generosità di questo mondo Gli ho offerto uno di questi Appuntiti razzi bianchi Dopo si sentì Una favola Cioè lui ha penetrato Sessualmente il suo amico Con delle pietre Va bene Donna 17 anni Quando ero piccola Mia madre mi lasciava spesso con mio padre Una di queste volte Avevo la febbre Così mio padre decise di mettermi la supposta Per peccato che sbaglio buco Le cose sono due O tuo padre è ciecato Proprio malato O tuo padre è un pedofilo Scegli tu Uomo di 15 anni Durante la gita scolastica Mi sentì male Così andai in farmacia Col mio professore E presimo delle supposte Entrammo nel bagno di un bar E mi disse Abbassati i pantaloni C'è un professore che ti dice Abbassati i pantaloni Per metterti la supposta Ma stiamo male vero Comunque Io stavo sperando tantissimo Che mi avrebbe messo il suo Il suo cazzone nel mio culo Ma ho ricevuto la supposta Ma questo ragazzino Che cazzo di problemi ha? Molti Che c'è? Donna di 14 anni È alquanto imbarazzante da dire Ma io adoro le supposte E cazzo Talenti innati Non sono mai riuscita ad ingoiare una pastiglia E le medicine sciolte in acqua mi fanno schifo Mentre con una supposta è questione di attimi E subito sto meglio Porcellina Daniela mi suggerisce di cercare Ho visto il mio ragazzo Vediamo cosa troviamo Donna di 16 anni Ho visto il mio ragazzo con un'altra a limonarsela Quindi un mio amico gli ha ficcato un ratto Morto nella borsa Tieni stronza Ti devo dire solo una cosa La colpa è del tuo ragazzo Che se l'è limonata Non di lei che si è limonata il tuo ragazzo E lui che ti ha tradito Sveglia zoccoletta Donna di 14 anni Ieri mentre andavo in bagno Ho sentito degli urli dal bagno dei maschi Sono entrati e ho visto il mio ragazzo Con il pene dentro la bocca di una ragazza E fin qui nulla di strano Per i tempi di oggi ovviamente ha 14 anni Che era una mia amica Gli ho tirato un calcio fortissimo E sono soddisfatta Tieniti la tua troia Yes Però alla fine lui ci ha goduto Quindi alla fine che cazzo gliene frega Lui che gli ha dato un calcio fortissimo Cioè Allora Amel mi scrive Anzi mi suggerisce di scrivermi Con la sorella della mia ragazza Giusto? Sì Con la sorella della mia ragazza Vediamo che esce fuori Donna di 15 anni Ieri ho fatto sesso con la sorella della mia ragazza Che ha 5 anni più di me Solo che mentre lo facevamo Ci ha visti la loro sorellina più piccola Cazzo Non voglio che lo dica Perché sennò lei andrebbe in prigione Perché andrebbe in prigione? Ah perché tu hai 15 anni e quindi non sei consensiente Effettivamente sì Spero che ti arrestino E poi arriva il genio Uomo di 23 anni Vorrei fare sesso con la sorella della mia ragazza Diglielo cazzo Roberto mi scrive La mamma del mio amico E qui già Credo che ci siano un miliardo di post Però vedremo 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 Uomo di 16 anni Un anno fa sono andato a casa di un mio amico E per la noia ci siamo messi a guardare un porno Cosa normalissima ovviamente Va bene Arrivati ad un punto di massima eccitazione Presi e andai in bagno Però scordai di chiudere la porta a chiave E Morale della favola Ad un certo punto la porta del bagno si apre E mi ritrovai con la mamma del mio amico Che mi fissava il pacco E lì devi fare Grazie Dio che esiste Il tutto seguito da un'esclamazione Ammazza il pacco Non ho mai riso così tanto in vita mia per l'imbarazzo Ma soprattutto per il complimento E lì scattava ovviamente Mamma del mio amico Vieni qui Uomo di 20 anni Una volta stavo a casa di un mio amico Ad un certo punto Mentre vado in bagno La mamma del mio amico mi segue E lì già è strano Con la scusa di andare a prendere un asciugamano Mi mostro i suoi capezzoli Ma che cazzo Perché non succedono a me queste cose No Non succedono a me queste cose Io pur evitando la sua richiesta La stringo fortemente a me E iniziamo a fare Sesso Scusa Tu stavi evitando la sua richiesta E poi hai fatto sesso Tu stavi evitando Ma tu sei omosessuale Dillo PS Non lo posso dire In culo Dopo nove mesi è nato un fratellino Il mio amico non capisce come sia successo Perché non ha il padre Mi sento malissimo Spero che questo sia tanto un fake Perché se è la realtà Dio mio dove siamo finiti Uomo di 14 anni Che poi uomo di 14 anni È contraddittorio Ma va bene con stesso All'elementari Ero andato a casa di un mio amico Mi era venuto un attacco di cacca E gli chiesi di andare in bagno Mi sono messo a cagare così fortemente Che si era indassata la tazza E avevo le mutande Sporchie di cacca Ma Capisco Esistono i bidet in Italia Però va bene Presi il dentifricio Della mamma del mio amico E pulì Ma la situazione era peggiorata Perché ovviamente tu impasti La cacca col dentifricio Quindi pensi a modo tuo Che si possa pulire Col dentifricio Strana gente Ho preso una mutanda Delle mutande Nella lavatrice Che per mia fortuna Non erano bagnate Ho messo le mutande sporche Di cacca Sopra un armadio In quella casa Non ci andrò mai più Quindi un giorno Mentre sua madre Poi andrà Andrà a pulire Vedrà sopra l'armadio Insieme alla polvere Della cacca Con Le mutande O le mutande Con la cacca Sì Allora Alessandro mi scrive Di scrivere Baby Baby Sitte Uomo di 18 anni Il mio segreto È che quando ero bambino Aveva una babysitter E fino a qua Il segreto non c'è Molto bella E quindi Quando i miei non c'erano Io gli leccavo le tette E la foca Quindi questa tua Cara amica Babysitter Aveva una foca Che portava insieme a lei Ogni qual volta Lei veniva a farti da babysitter Bene Oltretutto Mentre dormiva E non se ne è mai accorta Ed effettivamente Se la foca È accanto a lei E tu lecchi la foca Lei si dorme E non se ne accorge Ma manco una I sapete scrivere Donna di 21 anni Ho una relazione Con un uomo Di 40 anni Sposato Brava Troia Sono la babysitter Dei suoi bambini Brava Troia Non riesco A sentirmi in colpa Brava Troia Mi fa godere Come mai nessuno Prima d'ora Non c'è bisogno Che lo dico Uomo di 18 anni Mia sorella Fa la babysitter E un giorno Ha portato una ragazzina A casa Io non sapendolo Ero al bagno A farmi una serie Classico ovviamente Tu hai gente a casa Vabbè dettagli Entra sta ragazzina E mi vede Da quel giorno Vuole sempre Venire a casa nostra Eeeh Shish In che senso? Max mi scrive Di scrivere Quella sera E già Mi immagino Cosa troveremo Uomo di 14 anni Una sera di un anno fa Dovevo giocare Una partita di calcio E mia mamma Sarebbe dovuta Venire a vedermi Non la vedi Tra il pubblico Per tutta la partita Tra il pubblico Soprattutto Mia mamma morì Quella sera In un incidente Con dei rumeni ubriachi So che non dovrei Generalizzare Ma vorrei menare Ogni rumeno Che incontro Cazzo Che storia triste Mi spiace E ti metto nel video Te lo meriti Uomo di 18 anni Mio padre pensa che sia un ragazzo timido Eccetera A volte sembra quasi che si vergogni di me Sabato sera sono tornato a casa Con le mani rosse E con dei taglietti Gli ho detto che ho menato uno E lui sembrava molto orgoglioso di me La verità è che quella sera era ubriaco E ho picchiato un albero Non ho niente da aggiungere Angelica mi scrive Di scrivere Con il prete Mi devo preoccupare Che c'è? Donna di 18 anni Sono cristiana Vado sempre a messa E non oso bestemmiare Oh mio dio Il segreto Io lo faccio Perché ho una relazione Con il prete Quindi tu sei cristiana E non bestemmi Perché hai una relazione Col prete E i tuoi problemi psicologici Dove li metti? Donna di 22 anni Un mese fa ho fatto l'amore Con il prete del mio paese Complimenti prete del tuo paese Sei un pedofilo Manico sessuale di merda Sono follemente innamorata Oh mio dio E un prete Ho appena scoperto di essere incinta E lui mi ha detto di abortire Lui è il prete più in gamba del mondo Si fotte le ragazzine E non solo Le fa pure abortire Quindi blasfemia su blasfemia Peccati mortali proprio Complimenti Uomo di 21 anni Ho scoperto che la mia ragazza È da un anno che se la fa Con il prete di paese Aspettate un attimo Quello di sopra era Un mese fa Ho fatto l'amore con il prete del mio paese Quello di sotto E ho scoperto che la mia ragazza È da un anno che se la fa Con il prete del mio paese Assai misteriosa Non vuoi O vuoi Che questi due Erano fidanzati E che quindi Il prete del paese è quello Spero di no O spero di sì Il bello È che non so come comportarmi Perché qualunque azione faccio Finisce male Lei rischia di vedersi La vita rovinata E purtroppo Io sta cosa non la voglio Penso che in questi giorni Farò una visita dal prete Aggiornerò in seguito Secondo me ti violenta Pure a te il prete Ho questa impressione Ma tu non bestemmiare Mi raccoma Tu non bestemmiare Donna di 35 anni Il giorno del mio matrimonio Io e mio marito Prima che cominciasse la cerimonia Abbiamo fatto Sesso dietro la cappella Questa frase è molto ambigua Per quanto già non lo sia Perché c'è sesso Ma c'è anche Dietro la cappella Mia suocera Ci ha visti Ed è svenuta E direi Sesso dietro la cappella Lasciamo perdere A soccorrerla Fu mio padre Con il prete Che si stava preparando Il prete poverino È rimasto Sbalordito E scioccato Povera Suocera E ultima di oggi Uomo di 18 anni Quando ero piccolo Mi masturbavo Con una spugnetta Spero che la usavi Solo tu Questa spugnetta Che non ti lavavi Dopo le ascelle O Non lo so Una volta mia madre Uscì di casa Per andare in chiesa Aveva l'incontro Con il prete Per la mia cresima Mentre mio padre Era a casa Che dormiva Io ero a casa Davanti alla play Ed ad un certo punto Mi è venuta una gran voglia Di masturbarmi Ovviamente Mi si pausa È normale E lo feci Chiusi gli occhi Dalla forte eccitazione E quando li riaprì Mi ritrovai mio padre Davanti Che mi guardò scioccato Nonostante fosse Mezzo addormentato Che figura di merda Effettivamente Non è il fatto Che trova suo figlio Che si masturba Perché dice Cazzo è una cosa normale 18 anni E va bene Ma con una spugnetta Io non lo so Dove viviamo Va bene ragazzi Io come al solito Vi saluto Vi ringrazio Per aver visto questo nuovo video Se volete un altro appuntamento Di in segreto Arriviamo a 100 mi piace Per il prossimo episodio Iscrivetevi E commentateci Ci vediamo al prossimo appuntamento Sempre qui con Zayn Ciao Ovviamente si è smaterializzato Nel momento giusto Però Adesso deve Rimaterializzarsi E si beccherà Un bellissimo Rasengan In the face Boom Boom Ahahahah